L'ASL procede sul doppio fronte del tracciamento e della vaccinazione nonostante persistano i casi positivi e diminuisca l'affluenza ai vaccini. Ad oggi quali sono i numeri? Per quanto riguarda i ricoveri abbiamo 7 ricoverati nei reparti Covid e 8 al Bellocchio che però è un reparto di dimissione, è un'unità operativa di dimissione. Non abbiamo impegno di rianimazione per cui mi sembra che l'impegno ospedaliero non c'è. Per quanto riguarda i vaccini abbiamo superato le 200.000 dosi, siamo al 66,34%, un ottimo risultato. Ci stiamo concentrando sulle categorie che meno sono state interessate alla vaccinazione che sarebbero quelle più giovani, quindi dai 12 ai 19 che è anche il target che ci interessa nell'ottica della riapertura delle scuole. Stiamo lavorando anche su quel personale, docente o non docente, che non si è voluto vaccinare per convincerlo che la vaccinazione è importante. Come sono da ritenere i dati sui casi positivi rispetto a quelli dell'anno scorso? La variante Delta circola molto di più rispetto a quello che era l'anno scorso. L'anno scorso il virus circolava a zero, quest'anno invece circola. È una variante diversa. D'altra parte più il virus circola più si possono formare varianti. Bisogna lavorare molto sulla prevenzione, sul tracciamento. Quando c'è un positivo bisogna subito bloccarlo, isolarlo. È la pandemia, questa pandemia è così, per cui quest'anno abbiamo più virus che circola. Però abbiamo anche i vaccini che l'anno scorso non avevamo. Abbiamo il 66% a livello regionale, il 65% di vaccinazioni fatte, che è importante perché chi fa il vaccino con prima e seconda dose non fa la polmonite. Quindi c'è una differenza sostanziale rispetto all'anno scorso. È vero che girava meno, però è vero che poi a settembre eravamo scoperti perché non c'era il vaccino. Quest'anno, se anche a settembre il virus circolerà, avremo il vaccino. Ecco perché è importante che vi vacciniate. Chi non si è vaccinato si vada a vaccinare.